Rissa a scuola, schiaffi, pugni, calce e coltellate, mattinata di follia davanti l'istituto alberghiero di Villa San Giovanni, ferito grave un diciassettenne, fermato un albanese. Vado avanti, non ha nessuna intenzione di gettare la spugna al presidente del lancio di Reggio Calabria Francesco Siclari, oggetto di intimidazione su un cantiere nella diga d'aiuta. Ditalo alla C, a vivo la storia del piccolo Pasquale nato con una malformazione al cuore e l'appello dei suoi genitori, aiutateci, mentre alla Mezzi è una donna salvata dallo screening per la prevenzione tumorale. Professione truffatore, soggiorna nei luoghi più belli del mondo ma quando arriva il conto scappa, la curiosa vicenda di un calabrese è diventato l'incubo degli hotel di lusso. Corsa a due, staccata la nocerina, la Vibonese dovrà preoccuparsi solo del Troina. La promozione in Serie C si restringe, ma non mancano gli ostacoli. Decisivo il prossimo turno, vi spieghiamo perché. Buona martedì d'Alessio Buonpasso, bentornati alla nostra informazione. Partiamo dalla cronaca. Ieri l'accoltellamento davanti scuola che aveva portato al ferimento grave di un ragazzo di Villa San Giovanni, fermato oggi un maggiorenne albanese. È stato individuato dai carabinieri, l'autore dell'accoltellamento avvenuto ieri mattina davanti all'istituto alberghiero di Villa San Giovanni. Si tratta di un giovane albanese di 20 anni, Nesha Chizza. L'uomo è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per le lesioni, cagionate ad un 17enne a seguito di una lite. Chizza è stato denunciato a piede libero anche per il reato di Rissa, assieme ad altri due giovani italiani minorenni. Uno di loro deve rispondere anche del reato di porto illecito, di oggetti atti ad offendere, in quanto a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di un coltello. Secondo le indagini dei militari dell'arma, il ferimento, avvenuto ieri intorno alle 8 all'ingresso dell'istituto, sarebbe stato causato da una pergressa lite accaduta il giorno prima a Scilla, per ragioni non meglio precisate. Il giovane ferito più gravemente sarebbe intervenuto per dividere i compagni, riportandola peggio. Si trova ora ricoverato agli ospedali riuniti. Le sue condizioni sono serie, ma non sembra essere in pericolo di vita. Le indagini proseguono per comprendere se vi siano ulteriori responsabilità in merito a quanto accaduto. Consolato Minniti per la CNews24. È determinato ad andare avanti il presidente di Ance Reggio Calabria, Francesco Siclari, dopo i danneggiamenti subiti dalla sua azienda, che lavora all'impianto di potabilizzazione della diga sul fiume del Menta. Lo abbiamo ascoltato. Non voglio mollare, non voglio distruggere la storia della mia azienda. Voglio che questo settore vada avanti, perché chi è preposto ha, anche parlo della politica, parlo delle forze dell'ordine, solo col lavoro si combatte questi fenomeni. Andare avanti e non mollare è questa la strada che ha intenzione di percorrere Francesco Siclari, presidente di Ance Reggio Calabria, all'indomani del furto e danneggiamento ai danni dell'impresa, della quale è titolare per l'impianto di potabilizzazione al servizio della diga del Menta, per un danno pari a circa 80.000 euro. Ritengo che non sia intimidatorio, come qualcuno ha scritto, perché io non ho ricevuto nessuna minaccia da parte di nessuno, almeno in questo quantiere. Quando è stato fatto abbiamo immediatamente sempre denunciato negli anni, la mia azienda ha oltre 50 anni di storia, prima mio padre e poi io abbiamo sempre denunciato questi fatti, non abbiamo mai mollato, come si suol dire, barcolliamo ma non molliamo. Un episodio che colpisce l'economia sana della nostra regione, ma che non frena la voglia di lavorare per il bene del territorio. Noi abbiamo immediatamente ripreso le lavorazioni, tranne le prime ore dove le forze dell'ordine hanno fatto le prime indagini, i primi sopralluoghi, noi subito dopo abbiamo ricominciato a lavorare perché questo non deve essere un evento che può fermare la nostra attività, noi continuiamo a lavorare seriamente nella legalità, noi diamo da mangiare a parecchie famiglie, la cosa che mi ha un po' destabilizzato moralmente è il fatto di vedere sul viso dei miei operai un po' di delusione, però loro stessi mi danno forza per andare avanti. Che cosa vuol dire per la nostra regione dover assistere all'ennesimo episodio del genere? Io dico che chi è preposto a fare i controlli e a reprimere questi eventi deve riflettere e dire vediamo insieme cosa vogliamo fare per cercare, secondo me, cercare che non si estirperà mai questa malerba purtroppo su questo territorio. Rossella Galati per la CNews24. Intanto nuova intimidazione e danni del sindaco di Crocia dopo l'aggressione fisica subita nei giorni scorsi a rimanere nel mirino dei criminali. E ancora una volta il primo cittadino, Antonio Russo, ignoti, infatti, nella notte tra domenica e lunedì scorsi hanno dato fuoco alla sua abitazione estiva. I componenti dell'esecutivo della maggioranza consigliare, nell'attestare solidarietà al sindaco, rilanciano l'appello affinché si ponga un freno all'imbarbarimento della polemica politica. Ritorniamo adesso ai tragici incidenti stradali, verificatesi in poche ore sulle strade calabressi ed è drammatico il bilancio lungo la statale 106, sono già sette le vittime dall'inizio dell'anno. Continua a riempirsi in modo inesorabile il bollettino di guerra delle vittime della statale 106, la strada della morte. Domenica scorsa, a perdere la vita lungo la Ionica, nel tratto tra Torre Merissa e Strongoli, nel Crotonese, è stato il 39enne Rosario Abate. Sale a sette dunque il numero delle persone che dall'inizio del 2018 hanno perso la vita lungo la dannata SS 106, 575 dal 1996 e oltre 700 vittime di quelle di cui si ha memoria da quando la statale è entrata in funzione. Cifre abberranti di cui tiene memoria l'associazione Basta Vittime sulla statale 106, come monito ma anche come sprone ad uno Stato spesso disattento alla mobilità della Calabria Est. Quali sono allora le soluzioni per evitare che questa strage continui? Bisognerebbe creare una nuova 106 per riuscire a spezzare i volumi di traffico che sono altissimi sull'attuale, vecchia, obsoleta 106. E nel frattempo, visto che i tempi dell'ammodernamento sono lunghi, riuscire a creare una campagna di investimenti immediata per la messa in sicurezza di questa strada. E adesso vi raccontiamo la storia del piccolo Pasquale, nato con un'anomalia al cuore e quella dei suoi genitori che attraverso le nostre telecamere chiedono aiuto. Non ha neppure un mese e ha già subito diverse operazioni. Pasquale Zaccaria è nato il 29 aprile scorso con una cardiopatia congenita. Poche ore dopo la nascita, avvenuto allo Giazzolino di Vibo Valencia, è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Napoli, dove ha subito il primo intervento al cuore. Da quel giorno la sua mamma assiste il piccolo che ha bisogno di costanti cure e assistenza. Lo stanno tenendo sotto osservazione. Non sappiamo ancora quando lo demettono, perché dovrà subire ancora altri interventi. Ma di cure e assistenza ne hanno bisogno pure gli altri due figli piccoli. Il più grande di tre anni è stato affidato alla nonna. La più piccola di un anno appena viene invece accudita da una zia che però vive a Roma. Lui è il papà del piccolo Pasquale Zaccaria. Barista, 33 anni, è dovuto rientrare stamattina al lavoro dopo una lunga assenza. Un giovane riservato e volenteroso, travolto da un imprevisto, che ha messo in crisi le sue esigue finanze. Ecco perché si appella ai suoi concittadini affinché possano aiutare lui e la sua famiglia ad affrontare questa nuova vita, fatta di viaggi e medicinali costosi, che non può permettersi. Nella famiglia lavoro solo io e non abbiamo alcune possibilità. Speri di ricongiungere la tua famiglia? Sì, il primo obiettivo è questo, di tornare tutti assieme e stare a casa come una famiglia normale. Per dare una mano a questa giovane famiglia di Vibo Valencia è partita una raccolta di fondi avviata da un'amica che è riuscita a raccimolare qualche centinaio di euro. Se ci possono aiutare tutti quanti, noi le ringraziamo con tutto il cuore, io, mia moglie e i bambini, tutti. Cristina Giannuzzi per la CNews24. E adesso l'importanza della prevenzione. Guardate cosa è accaduto a questa donna di Gizzeria Lido. Ringraziando a Dio per i miei 50 anni ho pensato bene, insomma, di farle queste visite e mi ritengo oggi, dopo un percorso, non dico facile, abbastanza difficile per me e per la mia famiglia, però ringrazio che, insomma, oggi sono qui a parlarne. La signora Michele Amasi si considera una miracolata. Dopo aver trascorso una vita ad evitare qualunque forma di prevenzione, appena compiuti i 50 anni ha ricevuto a casa una lettera dell'ASP che la invitava a fare una mammografia. Questa volta non ha stracciato la busta come altre volte aveva fatto presa dalla famiglia, dal lavoro e dalla quotidianità, ma si è recata nel centro screening dell'ospedale di Lamezia Terme. Questo le ha permesso di scoprire un nodulo ancora in forma embrionale di pochissimi millimetri. L'intervento immediato ha impedito che si sviluppasse e le ha salvato la vita. Io sono stata abbracciata dai dottori, dalle dottoresse. Io ho avuto un percorso lineare molto facilitato perché mi hanno presa veramente sotto la loro ala protettiva. E ora la signora Michela spinge affinché tutte le donne facciano prevenzione, magari proprio con le opportunità gratuite offerte dalle ASP. Prevenite sempre e fate le dovute visite perché è importantissimo. La diagnosi di cancro non corrisponde a una condanna a morte perché di cancro si può guarire, di cancro si sopravvive anche grazie alla diagnosi precoce. Tiziano Abbagnato per la CNews 24. Nella nuova puntata di La Cisalute in onda domani alle 13.30, alle 15 e alle 20, sulla nostra rete si parlerà di insufficienza renale e trapianti insieme al nefrologo Giovanni Mazzitello. All'interno della rubrica anche la testimonianza di chi dopo 20 anni ancora si commuove ricordando il giorno del trapianto del fegato. Noi qui siamo il fanalino di coda per quanto riguarda le donazioni in Italia, rischiamo la chiusura del centro trapianti calabrese per cui i nostri corregionali saranno costretti a recarsi come sempre all'estero, la famosa emigrazione sanitaria, questo perché in Calabria non abbiamo gli organi. Non c'è in questa regione una cultura vera e propria della donazione, anzi c'è da dire che sono tantissimi le opposizioni alla donazione, nel momento in cui la donazione si potrebbe espletare i parenti del congiunto si esprimono in maniera negativa e questo è veramente grave. Stenta a crescere in Calabria la cultura della donazione degli organi e a peggiorare la situazione, c'è il dato sulle opposizioni alla donazione da parte dei familiari, per questo è necessario promuovere la cultura della donazione, un gesto di grande generosità che consente al ricevente di tornare a vivere, come testimonia Antonio Carello a circa 20 anni dal trapianto di fegato. Una volta fatto il trapianto si rinasce un'altra volta, ma si rinasce grazie a quella nobiltà d'animo dei familiari e delle persone che accettano a fare questo. Era la settimana di Sant'Antonio, il mese di giugno e quando poi io piangevo, mi portavo a mangiare e dico no, penso che il suo marito dice sta meglio se lei non mangia, però non mi si apriva la bocca, era tanta la sofferenza. Ricevere un organo è un grande dono, bisogna essere coscienti che quando muore qualcuno è una cosa grande questa dare gli organi, tante volte uno si sente la coscienza e dice deve morire qualcuno, hai tanta gioia, però pensi pure a quelli che hanno perso la persona cara, però poi subentra la gioia di una nuova vita. Rossella Galati per la CNews24 Siamo adesso alla politica con la mezzia terme che guarda oltre al commissariamento e pensa alle amministrative. Non è un momento facile, la città non sta dando le risposte che mi sarei aspettato, perché dopo il terzo scioglimento per infiltrazioni mafiose, dopo soprattutto una situazione in cui la politica ne è uscita veramente male, mi sarei aspettato una risposta innanzitutto dei partiti ma anche della società civile, risposta che invece non vedo. Il diretto Rosario Piccioni, ex candidato a sindaco nella scorsa tornata e coordinatore del movimento la mezzia insieme. Il terzo scioglimento per infiltrazioni mafiose ha messo in moto soprattutto le onida tastiera del web, ma non ha portato a quella alzata di test che ci si sarebbe aspettati, tanto che in diversi, seppur citati nella relazione prodotta dalla commissione d'accesso, si sono ricandidati alle politiche o hanno iniziato a seminare il terreno in vista delle amministrative future. Se ne è parlato in un incontro organizzato proprio da Piccioni, a cui hanno preso parte i parlamentari eletti di Polito del Movimento 5 Stelle e Viscomi del PD, oltre che i non eletti Laura Fazzari di Potere al Popolo e la Democrat Aquila Villella. La responsabilità dello scioglimento comunale non è soltanto dei soggetti responsabili direttamente, ma anche di tutti coloro che l'hanno votato. Nessuno è un pubblico ministero o vuole operare dal pubblico ministero ma capire le ragioni di una sconfitta. E c'è chi invece ha fatto incetta di consensi e pensa ora ad arrivare alla regione. Il lavoro dovrà ancora continuare, sempre nell'interesse di la mezzia per la conquista della regione. Tiziana Bagnato per la Cineus 24. Ci spostiamo adesso a Vibomarina per una bella iniziativa portata avanti dall'Istituto Amerigo Vespucci contro la violenza delle donne. Far conoscere ai ragazzi la differenza tra sesso e genere per educarli al rispetto e alla parità tra esseri umani. Questo l'intento del progetto Genere Plurale contro la violenza sessuale e di genere che ha coinvolto i ragazzi dell'Istituto Amerigo Vespucci di Vibomarina. Ci siamo partiti proprio dal linguaggio, dalla comprensione di alcuni termini specifici. Quindi hanno lavorato i ragazzi prima di tutto su se stessi, quindi costruzione della propria identità e poi hanno trasmesso quanto appreso anche ai loro compagni. Un percorso educativo che si è concluso con la realizzazione di un video oltre gli stereotipi. Quello che abbiamo voluto fare con questo video è stato praticamente sconvolgere la realtà, cioè abbiamo associato azioni che di solito compiono gli uomini alle donne e viceversa. Noi è da anni che lavoriamo sulla parità di genere, partendo da questo primo percorso la scuola in genere, creando addirittura un brano musicale, Armonie di un amore urlato, che era stato indetto come concorso sia dalle pari opportunità dall'UNAR e dal Ministero dell'Istruzione. Abbiamo vinto un premio, quindi voglio dire che per noi è importante che i nostri ragazzi e le nostre ragazze abbiano la consapevolezza del loro modo di essere uomini e donne e lavoriamo molto sulle loro emozioni, sulle loro relazioni. Erika Consolo per la Cineus 24 Di professione fa il truffatore, è diventato l'incubo degli hotel di lusso ed è calabrese, guardate. La suite sul mare viene sulle 80.000, signore. Signore, se vuole qualcosa di meglio abbiamo l'appartamento reale, 100.000. Io te lo prendo! Non è proprio questo l'approccio di un 21enne di Cropani Marina in provincia di Catanzaro che è diventato l'incubo degli hotel di lusso del Nord Italia. Qui si rilassa in costosissime spa, beve, mangia, dorme in suite principesche e poi al momento di pagare taglia la corda e sparisce. Al Mandarin di Milano, uno dei più prestigiosi hotel della capitale meneghina, a due passi dal teatro alla scala, ha lasciato un conto in sospeso per circa 6.000 euro, occupando per due notti la suite più costosa. Stesso copione all'hotel dei Cavalieri di Piazza Missori, sempre a Milano, dove è restato solo una notte. A Cogne, invece, in Val d'Aosta, per quattro giorni all'hotel Sant'Orso, ha lasciato un conto in sospeso di 3.000 euro. Le modalità della truffa sono sempre le stesse. Arriva a bordo di auto costose, solitamente in compagnia di belle donne, si gode la sua vacanza e poi, quando c'è da pagare il conto, inventa una scusa e prende il largo. Sui social le sue imprese sono accolte da cori di incitamento. Hai fatto bene, divertiti finché puoi, sei un mito. E questo è il tenore dei messaggi della maggior parte degli utenti che si è appassionata alla vicenda. Ma la realtà è molto più amara per chi finisce nella rete del giovane truffatore, come è successo l'attrice calabrese Paola Rubino. Mi chiamo dicendomi, ciao Paola, scusami se ti disturbo, ma ho bisogno di una mano, mi puoi aiutare solo tu, perché la truffa che avevo chiamato mi ha dato buca all'ultimo momento e quindi io devo girare questo videoclip per sponsorizzare una crema. E quindi se mi puoi aiutare, perché ho già prenotato lo yacht a Monte Carlo, ovviamente lui dice, non ti preoccupare dei costi, non fa niente, quant'è, insomma, non è quello del problema, eccetera, eccetera, non ha pagato nessuno di noi. Io sul set ho anticipato anche 200 euro. Io penso che lui abbia fatto tutta questa cosa qui, praticamente in sostanza per cosa? Per farsi la vacanza su questo yacht. Enrico De Girolamo per la Cinews 24. Alta formazione universitaria a Catanzaro, a Palazzo San Giovanni, il sindaco Abramo conferma e rilancia il progetto in una conferenza stampa. Il San Giovanni nasce come fortezza, come castello, poi diventa prigione. Non è cambiato tantissimo. L'adeguamento di una prigione a sede di formazione non è facile, non è stato facile, ma per adesso ha funzionato. Lo spostamento dei corsi di alta formazione dal campus di Germaneto al centro storico di Catanzaro è ormai realtà. Il progetto, nato su iniziativa del sindaco Sergio Abramo con l'obiettivo di salvare l'antico nucleo cittadino dello spopolamento, non era nato sotto i migliori auspici. Dapprima la disapprovazione di una parte di popolazione e poi il difficile adeguamento di un complesso destinato ad aria museale ne aveva infine rallentato l'avvio. Attualmente abbiamo il complesso San Giovanni attivato con il suo 70% di potenzialità. Ci sono 16 master, 6 dottorati di ricerca e qualche altro corso di formazione che è stato richiesto mano a mano. Oggi per esempio sono arrivate altre due richieste di svolgere qui la formazione. Nessun passo indietro dunque sul progetto che per lungo tempo aveva alimentato la polemica in città. Il sindaco con la conferenza stampa di oggi ha confermato e rilanciato la sua visione. Speriamo che oggi anche attraverso questa conferenza stampa si preannunci che anche i corsi legali vengono realizzati qui al San Giovanni. Proprio sull'ipotizzato trasferimento della scuola di specializzazione delle professioni legali era infatti montata la polemica. Idea tramontata in un primo tempo anche per via del di niego posto dagli specializzanti ma che oggi torna a prendere quota. E' una realtà che speriamo di far crescere anche negli anni successivi. Luana Costa per la Cineus 24. Ricorderete a Crotone la questione legata alla chiusura del castello di Carlo V, il consigliere comunale di minoranza Andrea Correggia oggi è intervenuto sulla questione facendo un invito ai colleghi in consiglio comunale affinché si affronti il tutto. Sono passati circa 20 giorni dalla chiusura del castello di Carlo V di Crotone e ancora non si sa nulla in merito alla data di riapertura o quantomeno agli interventi da affrontare. Questa decisione era stata presa dal primo cittadino ugo pugliese in quanto su segnalazione della parlamentare Margherita Corrado era stato sollevato il problema della presenza di fosforite, una roccia potenzialmente cancerogena. Sulla vicenda dal fronte istituzionale è intervenuto il consigliere comunale di minoranza Andrea Correggia che ha voluto porre un invito ai colleghi. Io per questo ho fatto un appello ai presidenti delle commissioni, sia la commissione cultura che la commissione ambiente affinché ci si occupi della questione perché io potrei anche occuparmi da solo, potrei anche andare all'ARPACAR, potrei anche andare all'ufficio tecnico, poi io rimango solo un consigliere comunale. Se invece tutto il consiglio comunale si preoccupa del problema e solleciti chi di competenza è già un gesto diverso, già una forza diversa. In tutto questo i turisti continuano ad arrivare a Crotone e come prima tappa visitano la fortezza o almeno vorrebbero vista la chiusura. Non siamo una terra che si può permettere una cosa del genere e bisogna intervenire subito. Questa è un'amministrazione che sta puntando tanto sulle navi da crociera, ma che senso ha far venire la gente da tutto il mondo per poi mostrargli un castello chiuso? Giuseppe Laratta per l'AC News 24. Nel frattempo a Reggio Calabria presentata la quinta edizione del Festival della letteratura e del diritto. C'eravamo anche noi. Al via la quinta edizione del Festival della letteratura e del diritto Città di Palmi. Dal 3 al 5 maggio studiosi e giuristi provenienti da varie parti d'Italia si riuniscono ancora una volta in Calabria per approfondire il rapporto tra diritto e letteratura. L'evento, moderato dal giornalista Francesco Altomonte, è stato presentato a Reggio Calabria alla sala Giuditta Levato di Palazzo Campanella. Al tavolo dei lavori, Nicola Irto, presidente del Consiglio regionale della Calabria, Giuseppe Ranuccio, sindaco di Palmi, Daniele Cananzi, docente di filosofia del diritto, Nino Guerrisi, rappresentante dell'Ordine degli Avvocati di Palmi, Vladimiro Maisano, assessore alla cultura di Palmi e il magistrato nonché ideatore del Festival Antonio Salvati. Il tema dell'edizione del 2018 del Festival della letteratura e del diritto Città di Palmi è la follia, o meglio il rapporto tra la follia, la letteratura e il diritto. Noi siamo partiti da una frase della indimenticata Aldamerini che anche la pazzia merita i suoi applausi per porci il problema del rapporto che c'è tra la follia e gli stati di disagio mentale in generale, il diritto ma sempre nella chiave principale della letteratura e dell'arte in generale. La manifestazione che si svolgerà tra Palmi, Reggio Calabria e vari centri della piana di Gioia Tauro si concluderà il 5 maggio con un ospite d'eccezione. Un incontro con uno scrittore e un giornalista che amo particolarmente, che è Paolo Rumiz, autore di reportage indimenticabili. Partiremo dal conflitto dell'ex Jugoslavia, così vicino ma così velocemente e colpevolmente dimenticato da noi tutti per parlare della follia collettiva che è la guerra. Angela Panzera per la Cineus 24. A Rende invece inizierà a breve la ristrutturazione della vecchia caserma dei Vigili del Fuoco. Durante i lavori le squadre di soccorso saranno ospitate a Cosenza, una soluzione che però rischia di allungare i tempi di intervento in caso di emergenza. La buona notizia è l'imminente ristrutturazione della caserma dei Vigili del Fuoco di Rende, ma mentre si procederà ai lavori c'è il rischio di lasciare sguarnito questo importante avamposto in cui sono impegnati nel complesso 30 operatori alternati in turni che coprono le 24 ore e chiamati ad intervenire anche a Montalto-Ufugo e nei comuni della media valle del Crati. La squadra verrà spostata a Cosenza. Questo evento porterà un ritardo nei soccorsi dei cittadini di Rende e dei comuni limitrofi per tutto il tempo necessario per uscire dal traffico cittadino e recarsi fino a Rende della squadra che verrà spostata a Cosenza. Credo che sia una cosa non trascurabile, come tutti immaginano, in un incendio, un incidente o in qualunque intervento i primi minuti sono quelli più importanti. Fare questa cosa alle porte dell'estate senza trovare un immobile alternativo per ospitare i pompieri riteniamo sia abbastanza particolare. Ci sono tanti edifici comunali sia nella cittadina di Rende sia intorno. Tranquillamente potrebbe essercene uno idoneo ad ospitare i pompieri evitando così questo disguido che inizia a breve ma come tutti i lavori pubblici in Italia non siamo certi quando e se finirà. Salvatore Bruno per la Cineus 24. Adesso parliamo di una bella iniziativa contro il bullismo protagonista il Crotone in Serie A. Continua a scuola con i campioni il progetto promosso dalla quarta commissione consigliare del comune di Crotone insieme al club rosso-blu che si rivolge agli istituti scolastici cittadini. È toccato alla scuola elementare della frazione di Papanice accogliere i calciatori Andrea Barberis, Agnello Viscovo, Bruno Martella e Adrian Stoian per una giornata all'insegna del confronto dove gli studenti hanno chiacchierato con i giocatori toccando tematiche quali il bullismo e la sportività. È una bellissima mattinata con questi bambini che sono davvero simpaticissimi e ci stanno facendo davvero divertire. Di questo ovviamente siamo grati al Crotone Calcio e i suoi rappresentanti che stanno facendo questi giri nelle scuole per vivere insieme questi momenti di entusiasmo e per cercare di continuare a portare avanti soprattutto in questo momento la bandiera del Crotone. Da Crotone per l'AC News 24 E adesso la decisione di un club di pallavolo che ha permesso ad alcune ragazze in difficoltà di frequentare i propri corsi in maniera del tutto gratuita. In tempo di ristrettezza economica anche 30 euro al mese possono rappresentare un sacrificio per le famiglie per questo la volle di Cosenza ha deciso di aprire le porte della propria scuola di pallavolo femminile gratuitamente per le bambine disagiate di età compresa tra i 9 e i 14 anni. Abbiamo constatato che ci sono tante ragazze che pur avendo predisposizione a fare lo sport della pallavolo non si avvicinano per problematiche economiche. Ci siamo impegnati a far frequentare lo sport della pallavolo a queste ragazze gratuitamente non solo senza pagare la piccola quota mensile che normalmente si paga ma anche attrezzando con abbigliamento e altre cose l'assicurazione e quindi aiutare queste famiglie a fare in modo che le ragazze frequentino la pallavolo. Questa vostra idea potrebbe consentire a qualche giovane talento in erba di poter spiccare il volo? Sicuramente perché ci sono un sacco di talenti inespressi e nascosti che vengono meno per difficoltà economiche o per situazioni di disagio familiare e con questo progetto noi diamo la possibilità di far esprimere il proprio talento, la propria qualità. Una promozione educativa dello sport con l'ospicio che altre società di altre discipline possano intraprendere lo stesso percorso in un contesto nel quale le strutture non mancano ma non sempre sono fruibili. Questa città, parlo dell'Hinderland, ha oltre i cinque palazzetti di cui uno solo funzionante così come le palestre scolastiche sono tutte palestre non adeguate. Salvatore Bruno per la Cineus24 In chiusura il calcio di Serie D, lo sapete, nell'ultimo turno è cambiata la classifica con la Vibonese e il Troina che sono riuscite a staccare la Nocerina e adesso il discorso promozione si restringe a due squadre. Eboli è già un vecchio ricordo. La vittoria sui campani e la vile aggressione subita da alcuni tifosi rosso-blu appartengono solo al passato. Ciò che resta è la posizione in classifica e la ritrovata leggerezza lassù, senza una delle rivali al salto di categoria. La Nocerina infatti perde il passo contro la Gelbison e la Vibonese sorride. A due gare dal Gong la squadra di Orlandi non deve più pensare a Molossi, ora è indietro di due punti in gradatoria generale, non molla di un centimetro invece il Troina che ad un certo punto della stagione sembrava aver tirato il frano a mano e invece è ancora lì, al fianco delle Oni di Vipo. In Calabria come in Sicilia è iniziata un'altra settimana di lavoro che porterà al penultimo appuntamento del torneo. La Vibonese ospiterà i cugini già retrocessi nell'isola Capurizzuto, mentre gli ennesi attenderanno il portici, già salvo, alle sue buon passo per la CINUS24. E questo era il nostro ultimo servizio, torneremo come sapete alle 20 e 30. Grazie. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7 sulla Calabria che fa notizia. La CINUS24, edizione giorno alle 14 e 15 ed edizione sera alle 20 e 30. La CINUS24, la Calabria che fa notizia.